e anche oggi dieci anni di vita gli ho persi vedendo sta partita 2 a 1 contro il verona buon pomeriggio a tutti quanti ragazzi bentornati sul canale o benvenuti se siete nuovi qui io l'ho detto il tarion post partita di un napoli verona che definire stressante definire pesante stressante l'aggettivo oggi è stressante perché osservamente oggi una sofferenza una sofferenza che io onestamente non penso di meritare una partita proprio da un certo punto verde regnava il caos non si capiva più niente in mezzo al campo una roba veramente pazzesca oggi e che dire ragazzi allora io dico subito una cosa io spero che questa partita possa essere la sliding door del campionato e a cosa mi riferisco mi riferisco al sistema di gioco perché ragazzi oggi secondo me ci sono state due partite una nel primo tempo e ora nel secondo tempo scusate c'ho ancora la tosse quindi perdonate nel primo tempo abbiamo giocato con un 4 3 3 che al centrocampo ragazzi veramente un centrocampo fatto di quantità ma di poca qualità perché il centrocampo che a just lo botca gli sa per quanto mi riguarda è un centrocampo che non si può non ti porta molto lontano specialmente nelle partite dove devi dove sei tu che devi comandare la partita dove devi giocare offensivo è un centrocampo che ti dà poca qualità poi ca just e oggi un po pure lui un po spaisato anche sa un pochino meglio di ca just però proprio manca quella mezzala di qualità che avevamo un tempo con zirischi e con elmas quindi secondo me questa partita anzi spero che questa partita faccia che faccia capire a mazzarri che il 4 dei tre non è più cosa da proporre diciamo ragazzi comunque le occasioni le avute cioè questa è stata una partita simile a quella col monza cioè le occasioni le avute problema però poi è che è sempre il solito se tu butti la palla in faccia al portiere è normale che quello poi si esalta e diventa il giocatore più importante diciamo il migliore in campo per il verona insieme a fuoruncio piccola parentesi ragazzi fuoruncio l'anno prossimo io spero che non ci sia il diritto di riscatto per il verona fuoruncio anno prossimo deve restare a napoli deve restare a napoli in rosa l'anno prossimo perché lo ha fatto capire anche in passato ma oggi cioè fuoruncio è stato il migliore del verona insieme al portiere quindi mi auguro che l'anno prossimo possa essere confermato in rosa chiusa parentesi fuoruncio ragazzi l'occasione di quara al nono minuto il dodicesimo altro occasione di quara sul calcio d'angolo che tira al volo di c'è questa palla che va dritto per dritto che poi viene parata dal portiere i primi venti minuti bene anche se i primissimi minuti abbiamo avuto quella solita cosa di farci passaggi orizzontali tra tra difensori perché il verona chiudeva molto bene i centrocampisti e tutti e tre i centrocampisti nostri venivano bene chiusi le linee di passaggio le ha chiuse molto bene il verona poi a un certo punto il napole ha provato a fare le palle lunghe in profondità per simeone o per le mezzali che si buttavano dentro poi nella seconda parte del primo tempo le ripartenze oggi le ripartenze erano proprio benissimo parlo delle ripartenze del verona cioè quando dovevamo subito i contropiedi attaccavano con un po troppa facilità secondo me poi ragazzi cioè i primi 15 minuti del del secondo tempo veramente non ci abbiamo capito niente cioè stava dominando il verona ed è un miracolo che il verona abbia segnato solo un gol perché ragazzi noi prima del gol di coppola settantesimo poteva tranquillamente farne almeno un altro il verona perché le occasioni le hanno avute c'è stato quel primo qua diciamo quel quarto d'ora tra il 45esimo e sessantesimo dove non abbiamo capito veramente niente e abbiamo rischiato tantissimo simione che poi ragazzi simione no quindi torniamo a quello che ho detto prima le occasioni le ha avute ma se le butti in faccia al portiere è normale che poi non segniamo cioè caro simione tu stai anche giocando cioè vuoi giocare tutto quello che vuoi però figlio mio la palla devi buttarla in porta non in faccia al portiere dai cioè dobbiamo un po svegliarci ok quindi arriva poi il gol di coppola che coppola ci avrà provato tipo 45 volte oggi a segnare e ragazzi al sessantesimo diciamo che arriva la sliding door perché perché mazzarri toglie caiust secondo me ha fatto bene a toglierlo toglie anche politano il calco il cambio di politano quello ormai è un classico cioè politano abbiamo capito che 90 minuti non li può fare entrano l'instrom e golge ok e si passa al 4 2 3 1 con Kvara al centro l'instrom a sinistra perché ricordiamolo l'instrom è un'ala e golge a destra ragazzi ora a parte i primi minuti di assestamento con il nuovo modulo ragazzi c'è il cambio modulo ha portato alla vittoria perché poi l'instrom anche lui ha dovuto carburare un pochettino ma dopo 5 6 minuti ragazzi l'instrom ha fatto vedere delle cose proprio belle interessanti e c'è l'ultimo quarto d'ora della partita caos a parte c'è stato un caos veramente negli ultimi quarto d'ora incredibile però l'instrom secondo me ha fatto vedere belle cose c'è stato il gol di ingolge su assist di l'instrom Kvara messo sotto punta secondo me può rendere bene poi ragazzi c'è il gol di Kvara no cioè il gol di Kvara è la dimostrazione che tutti quelli che dicono che Kvara ha un problema per il Napoli cioè è da ergastolo direste robe è da ergastolo cioè Kvara ragazzi anche oggi se non avesse segnato avrebbe comunque avuto un voto importante domani nelle pagelle perché Kvara è l'unico cristiano che crea pericolosità che crea occasioni da gol per il Napoli è l'unico cioè noi se attacchiamo è grazie a Kvara e oggi ci ha fatto un gol della madonna perché il gol di Kvara è un gol della madonna e quindi tutti quelli che dicono che Kvara ha un problema pensateci su prima 5 minuti abbondanti prima di dire sta cosa perché è da ergastolo dire che Kvara è il problema del Napoli chiusa questa parentesi ragazzi ripeto per me la partita di oggi è importante perché ti ha fatto capire che ormai con la rosa che hai a disposizione fare il 4-3 secondo me non è più possibile perché non hai più mezzali se consideriamo che Zilischi ormai è andato non hai più mezzali sei zeppoli trequartisti e qui cioè ripeto quello che dissi anche qualche giorno fa o vai col 4-2-3-1 o ripassi la difesa treco e i sottopunta però la cosa che mi preme dire cioè oggi il Napoli comunque la partita l'ha fatta lasciando stare quelle fasi un po' della partita dove si è un po' abbassato dove un po' lasciato terreno al Verona ma in generale il Napoli oggi ha fatto la partita e questa cosa cioè andrebbe ripetuta fino a fine campionato ma non facciamo che col Milan a San Siro ci mettiamo con la difesa col 5-4-1 e cerchiamo di non prenderle cioè l'atteggiamento che c'è stato nel primo tempo specialmente lo vorrei rivedere dal Milan in poi ok non facciamo che facciamo atteggiamenti diversi in base all'avversario hai giocato bene in casa contro il Verona bene fallo anche col Milan fallo anche col Genova fallo anche col Barcellona deve essere la base ok quindi io spero che Mazzari abbia capito che bisogna cambiare modulo e di conseguenza poi cioè cambiare innanzitutto i principi di gioco mantenere quelli che ci sono stati in questo primo tempo portarli avanti e poi di conseguenza cambiare il modulo perché poi ho letto gente che diceva anche Traore può fare la mezzala sì però ragazzi Traore è un po' troppo bassino è come l'Istrom cioè fisicamente non ti danno niente secondo me quindi è meglio metterli in una zona del campo dove sono più incisivi cioè la tre quarti ok quindi caro Mazzari 4 2 3 1 con al centro Traore o l'Istrom vedi tu chi mettere ma cerchiamo adesso di mettere i giocatori nelle posizioni più console alle loro caratteristiche quindi detto questo ragazzi ci prendiamo i tre punti fondamentale perché adesso c'è Atalanta Lazio alle 6 e da parentesi né Scamacca né Immobile giocano io ce l'ho affantaccio e tre punti Bologna ha vinto la Fiorentina ha perso quindi bene che ha recuperato tre punti sulla Fiorentina domenica c'è il Milan quindi non ci sarà mai lui che si è fatto a Monila quindi ragazzi la strada da percorrere secondo me è questa qua che abbiamo visto oggi nell'ultimo quarto d'ora 4 2 3 1 e mentalità propositiva se tu fai questo secondo me hai buone chance di arrivare quarto a fine stagione se invece torniamo a fare il 5 4 1 con tutti dietro il cadenaccio non andiamo da nessuna parte quindi fatemi sapere la vostra ragazzi nei commenti lasciate un bel like mi raccomando iscrivetevi al canale attivate la campanella fai tutto questo che è totalmente gratis noi ci vediamo domani con le pagelle di Napoli Verona e niente ripeto Foro Runzo l'anno prossimo deve essere il primo acquisto del Napoli lo voglio vedere in rosa l'anno prossimo detto questo ragazzi buon proseguimento di domenica noi ci vediamo domani e sempre e comunque Forza Napoli Grazie